Ciao e bentornati su Ciacchiazione, io sono Valerio Novara e oggi vi parlo di Don't Look Up, uno dei film che ha fatto più parlare di sé da quando è uscito al cinema i primi di dicembre e poi quando è arrivato su Netflix alla vigile di Natale. Come al solito vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi qui su Facebook per rimanere aggiornati su tutte le novità e le recensioni che riguardano i film, le serie tv del momento e di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram per rimanere aggiornati sulle curiosità e le ultime novità che riguardano il mondo del cinema. Don't Look Up, il film è di Adam McKay che è il regista di Vice, ad esempio, L'uomo nell'ombra e già da questa cosa mi aspettavo di rimanerci sia bene che male in questa recensione, cercherò di andare oltre l'aspetto della prima impressione che può fare il film e delle opinioni contrastanti che ho letto su internet e che ho sentito anche da alcuni miei amici. Allora, il film inizia con questi due astronomi, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, sono due astronomi che durante delle osservazioni ad un telescopio spaziale dalla Terra rintracciano l'arrivo di una cometa diretta verso la Terra. Il film inizia quindi con la dottoressa interpretata da Jennifer Lawrence che scopre questa cometa. In arrivo Leonardo DiCaprio è il suo professore e facendo dei conti capisce che effettivamente questa cometa, chiariamo una cosa, una cometa è un agglomerato di rocce e ghiaccio provenienti dall'esterno del sistema solare e diretti che vengono, che si inseriscono nell'orbita del Sole, vengono attratti dal Sole e che quindi possono passare davanti al nostro pianeta spesso. In questi giorni tra l'altro c'è la cometa Leonard che è visibile da alcuni punti del pianeta e che è molto bella da osservare e queste comete possono arrivare però grandezze molto notevoli, cioè nel senso che questa cometa poi scoperta dai due astronomi aveva un diametro di ben 10 chilometri. Vi faccio un esempio, è un diametro molto simile all'asteroide che avrebbe estinto i dinosauri nel nostro passato. Insomma, il film inizia con questa notizia. La prima cosa che si fa è chiamare la NASA e quindi contattare chi di dovere degli Stati Uniti, chi si occupano di monitoraggio dei cieli e quindi i due contattano l'Agenzia Spaziale Americana per riferire che una cometa sta arrivando verso la Terra e che nei prossimi sei mesi, cioè avranno il tempo, sei mesi, di fare qualcosa per impedire una catastrofe, una cometa di quelle dimensioni, come vi ho detto, avrebbe estinto i dinosauri, secondo la teoria più popolare, e porterebbe maremoti, catastrofi, tsunami e implicherebbe dei grossi cambiamenti a livello globale. Quindi la prima cosa che fanno è, tutti i trafelati, avvertire la NASA, che chiama la Casa Bianca e a quel punto iniziamo a vedere il primo passaggio emotivo del film, nel senso che all'inizio del film è molto seriamente con questo tema, molto serio, e arrivati alla Casa Bianca ci si accorge che le cose vengono, sono costretti ad aspettare molte ore, il presidente, anzi la presidente interpretata da Meryl Streep, sembra non dargli molto credito, e quando poi vengono ricevuti finalmente dal presidente e dai suoi collaboratori, questa storia della cometa viene presa molto sotto gamba. Ed è la prima impressione che ci facciamo, vedendo che dei potenti sono molto superficiali su un argomento del genere. dopodiché li mandano via e questo discorso sono costretti a riprenderlo attraverso i media, quindi andando ospiti ad un famoso telegiornale, ad una trasmissione, nella quale c'è anche l'attrice Kate Blanchett, che fa la giornalista, e anche in questa trasmissione, in cui loro due, i due astronomi provano ad avvertire della catastrofe imminente, anche con toni molto seri, poi c'è una famosa sbroccata di Jennifer Lawrence che mi ha fatto molto ridere e che poi è diventata virale come meme, perché poi di tutto l'argomento e l'argomentazione sulla cometa e sui possibili disastri che avrebbe potuto causare, le uniche cose che vengono fuori da questa intervista e da queste intervisti che rilasciano gli astronomi sono che la dottoressa sbraita in diretta tv davanti a tutti, urla moriremo tutti, la sua faccia viene utilizzata per i più svariati meme e prende anche una piega ironica come è poi tutto l'arco del film. Non staremo qui a dire la fine, anche perché mi piacerebbe che lo vedeste tutti, un film che è molto particolare, ha una prima occhiata, sono sincero, potreste rimanerci delusi, ma anche perché sembrano tutte, sembra una pantomima, una commedia, sembra molto tutto stereotipato, anche i personaggi, il cast è ricco di personaggi, c'è anche Mark Rilans, che è anche lui premio Oscar, che interpreta questo guru della tecnologia che ha costruito e ha finanziato anche la campagna presidenziale, è un imprenditore, è un milionario e costruisce razzi, veicoli spaziali e una tecnologia per cellulari e smartphone, e ci dà una panoramica anche di quello che potrebbe essere in futuro la dipendenza dei potenti e dei governi da questi magnati, se vogliamo. Allora, durante tutto l'arco del film emerge una grande superficialità a livello globale proprio, nel senso che poi con il passare dei mesi l'opinione pubblica si formano addirittura dei gruppi, alcuni sostengono che la cometa sia tutto esagerato quello che dicono gli astronomi, alcuni sostengono che invece hanno paura e che vogliono che il governo faccia qualcosa per impedire la catastrofe dell'umanità e altri addirittura che negano l'esistenza della cometa. Questo mi ha riportato allo scorso anno quando durante la pandemia, in piena pandemia, c'erano chi negava l'esistenza del virus, chi sostenesse fosse stato creato ad hoc il laboratorio e chi invece aveva paura e quindi premeva per trovare soluzioni e per cercare di rispettare le regole per impedirne la diffusione. Il personaggio di Meryl Streep mi ha ricordato molto Donald Trump durante la pandemia e non è solo il coronavirus, non è la grande metafora della pandemia. Anche dei cambiamenti climatici, Leonardo DiCaprio è uno che si è sempre battuto sul tema dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento globale. Ho visto molti riferimenti al fatto che nonostante la scienza ci dica continuamente che l'aumento delle temperature globali potrebbe portare a catastrofi, a peggiorare la vita in futuro, anche la vita del pianeta e delle altre specie che sono sul pianeta. Sembriamo non ascoltare, quindi questa è una metafora di tutta l'umanità che sembra non voler ascoltare perché non è una cosa che ci colpisce adesso e nel profondo della nostra quotidianità. Quando una cosa non ci tocca sembra anche che ci sia anche più lontana, ci sia più distanza tra noi e quella cosa, come era d'altronde questa cometa, fino a che non si vedeva e se ne sentiva parlare e ci si rideva anche sopra. Sbagliato, assolutamente, perché io per la scienza ho sia una passione che cerco di credere che le cose siano giuste, siano consigli reali quelli che ci dà la scienza. Nel momento in cui le persone si sono accorte che questa cometa era visibile, che stava raggiungendo la Terra, c'è stata più consapevolezza. Al diito di questo, la metafora dei cambiamenti climatici emerge, emerge profondamente. Non è il Borat di quest'anno. Alcuni lo potrebbero aver paragonato a Borat 2 dell'anno scorso, quando comunque si parlò molto di Trump, si prese in giro l'amministrazione, in particolare l'ex sindaco di New York Giuliani e in generale il comportamento di alcuni americani durante la pandemia, questo è forse un po' più serio perché comunque ti lascia quell'angoscia, soprattutto i minuti finali, ti lasciano una profonda angoscia che sia una cometa, sia un asteroide, sia un pericolo che invece potrà arrivare da dentro di noi e quindi dal pianeta, se continuiamo a non rispettarlo, a far salire le temperature globali, ad inquinare, ad emettere CO2, sono tutti meccanismi che portano a una sola direzione. Quindi il film racconta bene questo fatto, anche in modo satirico ed esageratamente sembrano macchiette, io ho definito macchiette alcuni personaggi che però nel complesso danno un messaggio molto forte, quindi consiglio a tutti di vederlo e la mia opinione è sicuramente positiva, anche se a una prima occhiata ho detto, oddio, un cast di questo tipo in un film del genere sembrano perdere i personaggi del calibro di Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio Mary Streep, che mi ha ricordato profondamente Trump, ed è tutto fatto apposta. Se avessero utilizzato un cast di sconosciuti, tra virgolette, non sarebbe arrivato quel messaggio che invece dovrebbe arrivare dopo averlo visto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi è piaciuto e se avete avuto la mia stessa sensazione d'ansia e d'angoscia alla fine del film. Scriveteci nei commenti e al prossimo video.